Cominciamo con l'Ariete. Astri favorevoli segnalano ottime prospettive nello studio e nel lavoro. Sembrano privilegiati coloro che lavorano nel commercio. Toro, siete i beniamini delle stelle e queste si daranno un grande affare per esaudire ogni vostro desiderio. Tenete gli occhi ben aperti, vi verranno regalate splendide opportunità. Gemelli, il cielo è dalla vostra parte, dunque non potranno mancare le situazioni più favorevoli. Se dovete chiedere o proporre qualche cosa ad un superiore o un dottore di lavoro, fatelo adesso. Otterrete quello che chiedete. Cancro, secondo gli Astri, potrebbe essere impegnativa questa giornata e non concedervi tregua, tanto che qualcuno potrebbe sentirsi nervoso e abbastanza affaticato. Leone, è vero che avete la fama di essere ambiziosi, troppo concentrati sul lavoro, ma oggi sarete molto più propensi a godervi la vita e ad accantonare quindi gli impegni. Potrete parlare a cuore aperto alla persona amata. Vergine, se il lavoro in questo periodo vi sembra un po' morto, approfittatene per rimettervi in pari con gli arretrati. Per i single sarà un giorno molto fortunato, per chi è in coppia invece le cose potrebbero andare diversamente. Bilancia, coraggio e decisione sono le parole d'ordine di questa giornata e insieme all'intreprendenza saranno le qualità vincenti che vi permetteranno di ottenere eccellenti risultati. Scorpione, ne avete di gatte da pelare, non perdetevi d'animo perché le tensioni e i problemi svaniranno come una bolla di sapone nel giro di pochi giorni. Sagittario, nel rapporto di coppia qualche cosa non andrà come avevate previsto. Un approfondito esame di coscienza vi farà comprendere che forse avete chiesto e predeso troppo dalla persona amata. Capricorno, mettete da parte la prudenza e buttatevi nella mischia anche a costo di rinunciare a qualcosa. La fortuna, quella con la F maiuscola, è completamente dalla vostra parte e sarebbe un vero peccato non darvi da fare per sfruttarla. Acquario, se vi sentite stanchi, apatici, distratti, di umore cattivo, inconcludenti e imprecisi nel lavoro, staccate la spina e regalatevi qualche momento di relax. Pesci, l'umore non sarà dei migliori, la forma tuttavia dovrebbe mantenersi soddisfacente. Dovrete tenere sotto controllo il nervosismo e essere rapidi nel fronteggiare un imprevisto. Potrebbe costringervi a rimandare un incontro.